Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Bene, amici podisti e nonna di Caffè TV 24 e Radio Genius, bentrovati. Il più cordiale saluto da Andrea Gusella e dal Comitato Provinciale Fiasp di Padova. Allora, il più cordiale saluto ricorda anche che il Comitato Provinciale oggi festeggia i 39 anni di attività. Un traguardo importante che ha visto un'importante crescita del mondo podistico sotto l'insegna della Fiasp. Anche questa settimana insieme a voi quindi con Fiasp, Podismo Informato e le notizie del podismo, l'unico motorio proposte da Fiasp alla Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, che come sempre va in onda su Caffè TV 24 il mercoledì e in replica il sabato, nonché lo potete ascoltare via radio su Radio Genius il venerdì sera, oltre a poterne poi consultare i contenuti attraverso il canale YouTube. Allora, la scorsa settimana è stata una settimana all'insegna del tempo variabile. Noi per dare un certo tipo di valutazione e di riferimento per le nostre manifestazioni usiamo considerare il numero dei partecipanti singoli iscritti la mattina alla manifestazione. Questo ci dà la possibilità di valutare, di confrontare nel tempo l'andamento delle manifestazioni. E così, a fare i conti con il maltempo, abbiamo visto, ed è evidente, che sicuramente la marcia su Esop al Brenta di Santa Croce e Bigolina di Domenica ha sicuramente pagato pegno. Infatti erano poco più di 300 i podisti iscritti la mattina. Un molto meglio, decisamente molto meglio, è andato invece agli amici che lunedì hanno organizzato la marcia Villana Brecanara, a Villa di Teolo, che ha visto un'adesione di oltre 750 singoli. Come sempre, soddisfazione c'è stata tutta la scorsa settimana per quanto riguarda gli appuntamenti degli allenamenti collettivi. Questa settimana il nostro importante debutto lo diamo a Mivao, un'iniziativa proposta dall'Associazione Caput Mundi, che avrà quattro tappe all'interno dell'area del Campo San Pierese. L'appuntamento di ieri era a Campo San Piero, il prossimo appuntamento sarà ad Arsego martedì 24 maggio. Prima di parlare di altri importanti appuntamenti che andremo a vedere, ci preme ricordare una scadenza importante. Abbiamo organizzato, come Comitato Provinciale, la partecipazione alla terza edizione dell'Europea di Akizbuel, in programma dal 26 al 29 maggio. Una presenza importante che ci consente di conoscere gente di altre nazioni che pratica il nostro sport con passione e con voglia di stare insieme. Avete la possibilità di visionare il programma, che è stato pubblicato nel nostro sito www.fiaspadova.it e dare la vostra adesione entro lunedì 2 maggio. Bene, ora iniziamo a parlare di quelle che sono le iniziative per i prossimi sette giorni. Cominciamo subito da questa sera, alle ore 20, l'appuntamento con Camila e Corri per Maserà, organizzato dai podisti Maserà. Il ritrovo in piazza Municipio, con percorsi di 8 km per i runner e di 5 km per i camminatori. Sempre questa sera, a Montagnana, avevamo la possibilità di partecipare alla Corrile Mura Corri, con ritrovo in piazza Trieste. Anche in questo caso parliamo di percorsi di 8 km circa per i runner e di 5 per i camminatori. Oltre all'appuntamento tradizionale di Palloran, che questa settimana si trova a Ponterotto, con ritrovo alle ore 20, ripeto, in piazza del Donatore, con percorsi di 9,5 km per i runner e di 5,4 km per i camminatori. L'organizzazione dei percorsi della serata è affidata al gruppo Fidas Ponterotto Montà. Domani sera, l'appuntamento della Corri per Padova è al Centro Sportivo Militare di Salvoro. I percorsi di 9,3 km per i runner e 5 km per i camminatori. E come ogni giovedì, a Sodomarina di Chioggia, la Corri per Chioggia Marina, Corri trovo in Largo Europa a Sodomarina. Domenica, 1 maggio, L'appuntamento principale in calendario Fiasp è sempre a Chioggia, con la 33esima camminà perciosa e marina. Il ritrovo è alle ore 7,30 al Santuario della Beata Vergine della Navicella, alle porte di Chioggia. Organizzano i cavalli marini con partenza dalle 8 al 9. I percorsi sono di 8, 13 e 17 km. Domenica mattina, sempre, in questo caso in provincia di Padova, a Gran Tortino di Gazzo Padovano, la Nornata Marcia Sentieri e Sapori di Gazzo, marcia che si tiene in occasione della tradizionale semina del riso Carnaroli. Il ritrovo è la partenza dalla storica barchessa di Villa Tacchi, dove sarà in funzione uno stand gastronomico per degustare il risotto a chilometro zero. I percorsi sono di 8 e 14 km e l'organizzazione è a cura del proloco di Gazzo. In provincia di Vicenza, segnaliamo a San Zeno di Castossola la quindicesima marcia degli Asparagi, percorsi di 4, 6, 13 e 20 km. La partenza è dalle ore 8 alle 9.30, l'organizzazione è a cura del gruppo Donatori Sangue. Sempre in provincia di Vicenza, a Farra Vicentina, l'undicesima a Sentieri e Valli di Farra, con percorsi di 7, 12 e 20 km. La partenza è dalle 7.30 alle 9.30 da Piazza Arnaldi, l'organizzazione è della protezione civile di Farra e Giuliano. Restiamo ancora in provincia di Vicenza, ad Altavilla Vicentina, con la stra-Altavilla, seconda edizione, che propone chilometri 6 e 12. La partenza è dalle 8 alle 9, l'organizzazione della protezione civile di Altavilla. Andiamo quindi a Verona, ad Arcole, la 29esima marcia del Santuario di Santa Maria dell'Alzana, percorsi di 7, 13 e 20 km. La partenza è dalle ore 8 alle ore 9, l'organizzazione è della Visarcole. Restando sempre in provincia di Verona, a Colà di Lazzise, la 39esima corsetta con le Sgalmare. I percorsi sono di 5, 9, 12 e 17 km. La partenza è dalle ore 8 e 30 alle ore 9 e l'organizzazione è del gruppo podistico Le Sgalmare. Bene, e veniamo agli appuntamenti degli allenamenti collettivi della prossima settimana. Cominciamo con lunedì sera a Casal Serugo, cammina per Casal Serugo, alle ore 20 ritrovo da Piazza Cesarotto con il gruppo organizzatore del proloco Casal Serugo, con i classici percorsi per i runner e i camminatori. Passiamo quindi a martedì sera, a Piove di Sacco, ore 19.45, partenza dal Duomo di Piove di Sacco, organizzazione dei Rain Runners con i consueti percorsi di 9 km per i runner e di 5,5 km per i camminatori. Sempre martedì sera, cammina con il sindaco, corri con il vice sindaco, a Tombolo alle ore 20, la partenza dagli impianti sportivi comunali, organizzazione del gruppo eclettica. E ancora martedì sera, ad Albignasego, due passi e una corsa per te, manifestazione organizzata dal GPDS Albignasego. E siamo quindi alla serata di mercoledì prossimo con gli appuntamenti di Cammina e Corri per Maserà, organizzata dai podisti Maserà, ricordo, con il ritrovo in Piazza Municipio. I percorsi sono di 8 km per i runner e 5 per i camminatori. E, sempre mercoledì, Corri le Mura Corri a Montagnana, ritrovo in Piazza Trieste con percorsi di 8 km per i runner e di circa per i camminatori. E per finire, l'appuntamento di Paleo Run che ci aspetta, mercoledì prossimo, al Parco della Cava di Bosco di Rubano. Ritrovo ore 20, partenza ore 20 e 30. I percorsi sono di 9 km e 6 km per i camminatori. L'organizzazione a cura del team Paleo Run. Bene, amici, questi sono gli appuntamenti della prossima settimana. Noi ci auguriamo di vedervi sempre numerosi, partecipare assieme a noi per avvivere una giornata o un'ora in compagnia all'insegna dello sport praticato per tutti. Con questo è tutto. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci! Caffè24, Radio Genius e Fiasp vi hanno presentato Podismo Informato.